LUNEDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO DAL VANGELO SECONDO MARCO Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Picoco. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. Gli inizi del Vangelo di Marco ci ricordano una dinamica molto importante che riguarda la corretta relazione con Cristo. La fede, infatti, non nasce per nostra iniziativa, ma per iniziativa del Signore. E' Lui, infatti, che ci mette gli occhi addosso e poi ci rivolge la parola, e non è il contrario. Gesù non è una scelta che facciamo dal menu delle religioni, ma è una scelta che nasce davanti a un'iniziativa che è Lui misteriosamente a prendere nei nostri confronti. Potremmo domandarci perché a me sì e a chi mi sta accanto no, ma la verità è che non possiamo rispondere a questa domanda perché è davvero misterioso il motivo per cui il Signore ci ha dato il dono della fede preferendoci ad altri. Sappiamo, però, che avere la fede non è una faccenda che inizia e finisce con noi. Avere il dono della fede implica sempre un progetto che ha anche a che fare con gli altri e soprattutto con chi la fede non ce l'ha. Chi crede ha la responsabilità di credere anche per chi non crede, ha il dovere di sperare per chi non spera, di amare per chi non ama e di pregare per chi non prega. Ma avere la fede non significa essere più amati rispetto a chi non ce l'ha. Dio ama tutti, sempre e senza condizioni. Il dono della fede non riguarda l'amore, ma la responsabilità. Forse per questo l'Evangelista Marco dice che la risposta dei primi discepoli non è lenta o complessa, ma semplice e immediata, a testimonianza di un cuore semplice che li caratterizza in quanto uomini semplici. E subito lasciate le reti lo seguirono, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Lasciare e seguire diventano due verbi significativi, bisogna fare delle scelte e camminare dietro a qualcuno.